Domenica in Salem gli ospiti di Cristina Parodi nell'appuntamento di domenica 17 marzo foto, Cristina Parodi conduce, Domenica in è ancora l'amore, in tutte le sue sfaccettature, il grande protagonista della puntata del 18 marzo, alle ore 14 su Rai 1, di Domenica in Alla vigilia della festa del papà, il profondo amore che lega padri e figli sarà celebrato con musica, danza, parole, storie e tante sorprese. Un delicato talk affronterà, poi, un tema d'attualità, la terza vita, storie ordinarie e straordinarie di chi ha deciso di non arrendersi al tempo che avanza e di reinventarsi dedicandosi a nuove o antiche passioni. Sono ospiti Lino Banfi, Milena Vucotiche e Alda Deusanio, ma anche nonna Irma, che racconterà la sua esperienza in Kenya per aiutare i bambini di un Orfanotrofio, Vittorio Martello e Giannina Biondini, una coppia che racconterà cosa vuol dire innamorarsi a 90 anni e la ballerina ultra settantenne di Paul Deinstomoco In studio ci sarà un parterre di opinionisti formato da Claudio Lippi, Adriano Panazza, Catena Fiorello, Maria Teresa Ruta e Angela Raffanelli Amore, poi, per il cinema e la comicità con Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino, che parleranno del loro nuovo film in uscita e con Paolo Ruffini, che racconterà a Cristina Parodi le avventure legate ad uno spettacolo comico e allo stesso tempo commovente, che tratta di relazioni umane che superano stereotipi e pregiudizi Poi amore e seduzione con il campione di nuoto Filippo Magnini, protagonista del gioco Che Uomo Sei, e amore di coppia con Veronica Maia e il marito Marco Moraci, che si sottoporranno al gioco delle affinità Amore per la musica con Mario Biondi, voce inconfondibile del panorama internazionale e padre affettuoso di Benotto Figli Amore per la danza con il processo Ballando con le stelle, dove verranno commentati gli episodi salienti e controversi della puntata del sabato, in compagnia del giurato Guillermo Mariotto E ancora, storie d'amore di gente comune, sorprese speciali e le canzoni che hanno fatto innamorare tutti, interpretate dalle voci di Karima, Sal Da Vinci e Silvia Salemi Mentre a rappresentare l'amore per la buona cucina sarà naturalmente Benedetta Parodi, protagonista di una nuova incursione, a casa di, stavolta dalla, Marchesa, Daniela del Secco d'Aragona, che svelerà particolari legati alla sua vita e al suo approccio con la cucina Muzica